L'Orchestra Sinfonica Giovanile di Grecia incontra la tecnologia della realtà virtuale e porta il pubblico sul palco tra i suoi musicisti. Utilizzando un visore per la realtà aumentata e materiale audiovisivo girato a 360 gradi, l'orchestra offre un'esperienza unica al suo pubblico. Il progetto è stato ideato da Dionysius Grammenos, fondatore e direttore artistico della formazione musicale. Penso che la gente abbia bisogno di un'esperienza personale in più per venire ad un concerto e scoprire la musica sinfonica. Il nostro progetto cerca di offrire questo gusto, questa esperienza alternativa ad una più ampia fetta di pubblico. Il nostro obiettivo, in collaborazione con le istituzioni culturali, è di portare l'iniziativa nelle città greche prive di orchestra e osale da concerto. Vogliamo rendere la musica classica più accessibile. Installeremo uno stand espositivo con i visori per la realtà aumentata, inviteremo la gente ad esplorare la musica in un modo nuovo. Il progetto ha anche scopie educativi, dato che può introdurre gli studenti alla musica sinfonica attraverso laboratori immersivi e interattivi. Questa particolare modalità di fruizione della musica, inoltre, può ispirare gli studenti, accendere la loro immaginazione e motivarli ad esplorare nuovi interessi. È la mia prima esperienza con la realtà aumentata, è la prima volta che guardo un concerto a 360 gradi, era come se fossi davvero dentro la sala da concerto, è stato molto bello. Specialmente ora, con le condizioni difficili in cui viviamo, questa attività dà la sensazione di stare in una performance dal vivo. Gli utenti hanno a disposizione una playlist con 15 opere chiavi di compositori come Beethoven, Mendelssohn, Tchaikovsky, Grieg, Weber, Mahler e Schubert. Nuove opere saranno presto aggiunte alla playlist man mano che l'orchestra registrerà con le camere a 360 gradi i prossimi concerti.